Lunedì 11 giugno 2018. È il 162esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda San Barnaba. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Barnaba, Leide, Yolanda e Bardone. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Quattrini. Deriva dal sostantivo quattrino, una moneta di rame in uso dal 1200 e che stava ad indicare una cosa di poco valore. È un cognome diffuso nella fascia centro-settentrionale con quattro ceppi principali. Uno nell'area tra Milano, Pavia e Piacenza, uno in Emilia, nel Modenese, uno nel Lanconetano e uno a Roma. Accadde oggi. L'11 giugno del 2002 il congresso degli Stati Uniti con la risoluzione 269 ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo e unico inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo l'oceanografo e regista francese Jacques Cousteau, nato a Sant'André de Kubzak l'11 giugno 1910. La citazione da ricordare. Abbiamo bisogno della libertà per impedire che lo Stato abusi del suo potere e abbiamo bisogno dello Stato per impedire l'abuso della libertà. Karl Popper. Dice il saggio. Chi ruba un ago poi diventa un ladro di buoi. Proverbio coreano. Un consiglio al giorno. Con il caldo si sente sempre più bisogno di bevande dissetanti. Ecco un'idea perfetta anche per un aperitivo in giardino. Prendete due fette di melone, pulitele della buccia e dei semini e frullatele insieme a mezzo bicchiere di porto. Avrete un drink dissetante leggermente alcolico e molto originale.